Salve a tutti per questo nuovo video di Capped, dopo tanto tempo di assenza, allora già abbiamo sconfitto questo Gigio Prodigio e ora vi faremo partire la clip Dobbiamo sconfiggere questa tizia che in realtà si chiama Baronessa Bon Bon Bon, vedi Baronessa Bon Bon Bon, allora ci tengo a spiegare, ci tengo a precisare che è tante cose, già le abbiamo fatte perché abbiamo registrato tante di quelle volte che però le abbiamo eliminato tutte infatti mi sono dicevo, la cancellate ma regoliamo e riproviamo chi gioco, me la faccio vedere la proagine vai, vientri qui magari stavo giusto così sfottendo oh buo ti ta 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 ba, è il primi è andato ora cambiamo arma perchè tanto già su che compare voglio dire i due proietti ehò c'è un po' quello che non vuole non vuole la stella ma giustamente acquistano questi cosiddetti cilindicino mente sono proprio dei suoni questi fungetti così vive si è ops ops e questo è andato alla manca l'ultimo miniboss e poi manco e c'è lei che è facile ok vabbè usiamo la manessa buon mondo che sarà baronessa buon con buon un posto con queste isi dai se non mi sparasse però è di questa bici se non mi spara l'anima 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 non spararmi l'anima ansia shit ma queste nuove non c'erano un'unice adesso l'analisi non mi ricordavo dai schiatta crepa non ci sono gioco incazzando vedi ecco che si incazza tocca ma voglio vedere che fa lanciato la testa la testa ma anche la testa non lanciava aggiunto cose per non farci vincere e anche questa è andata al terzo tentativo secondo tentativo ce la siamo andata molto meglio delle volte ma io e la proagine è una cosa tornata in vena ok è ritornata è il primo è andato adesso ci rimango possiamo fare tante altre cose proprio anzi proprio dei bonus perché siamo stati assenti per tanto tempo ok voto b meno wow abbiamo preso b vabbè perché sta un po' ritornando il proino si sta un po' ritornando la proagine un po' di riprisa andiamo allora e vabbè questa è andata lo sapevamo noi abbiamo registrato di sicuro questo adesso poi questo ti ricordi di quello del treno m e abbe questo abbiamo fatto vedere manela con la vita poi ci rimane allora ci rimane la una mini mappa che la facciamo un attimo così e vediamo di far andare almeno un altro boss boss andamore segnalate 5 le timoni solo che dobbiamo farlo a meno per recuperare perchè sono cose che già abbiamo fatto però riuscire una delle cdk del 2 3d. di cui giocare a 3 e quindi volendo non lo so fare che me io tu e simone e simone oppure io si mi amete va bene eh dove mettono degli amici ho capito bene almeno da quello che mi ha detto si dove mettono di sicuro questo personaggio per giocare a 3 e poi mettono anche dei dei nuovi boss ah anche questo come erano ma magman come si chiamavano magman e capped questo è capped e l'altro pochi sai chi sarà il terzo no è una tazzina sempre però non mi ricordo il nome palluccia allora quello sai come tutto sommato è facile basta farci pratica certo eh no stavolta non mi freghi tu non mi eh no eh ma non puoi nomiare eh eh non mi ecco qua ciao bello ciao mostro il biscotto prussiano vedi senapina bamburi un po' di maionese ah beh un po' di cetriolandia vedi uolo acciclipito acciclipi dp no guarda che sembra se muoio vai 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 no 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 fai il muro ah vai eh giro eh giro è giro e porfa vai come va ok allora guarda così non prendiamo danno così e così passato ok 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 comunque l'avrei preso danno va bene così dai 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 ok oddio dai ancora un po' ma dopo i tu tromboni c'è ancora parecchio ricordi questo? eh no questo no ah facciamolo si facciamolo morì ecco ah finalmente uno notificare ok gli occhi volanti oh oh no 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 Che cose, che cose, che cose C'è la lingua Oddio, aspetta, posso passare, posso passare Penso che dobbiamo È morto È morto Qua forse sono stato vero E facciamo l'ultima Più o meno me lo ricordo È in vera facile È in vera facile Ma se non è proprio un rito C'è proprio l'ultimo che dobbiamo fare è quello che ti deve far svolare la famiglia Sì, che ti deve fare proprio scassate Ecco perché il cappetto non l'abbiamo fatto più Perché puntualmente tutte le volte All'inizio va bene Alla fine poi Cominciamo a sbroccare Ecco, è giusto, il motivo era questo Riproviamoci Chi lo fa facile secondo me perché l'ha fatto tipo qualche milione di volte almeno Dai Dai, 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 dai Dai, di che nemmeno ti riguardi quale è stato il più difficile da una volta Forse è in là Forse è in là Forse è in là No, è un po' difficile dirlo Ovviamente è la gradi per certi livelli Forse ce ne stanno tipo 5, 6, ma non so Che sono tutti della stessa difficoltà Poi altri 5, magari un pochino meno Ma comunque molto difficile Ma fanno questo, si triggera, devo che a spara Ah, no Si triggera, se Si, ma stai calmo, eh Stai calmo Cosa mi meno Non dico che è buona, però probabilmente potessi C'ho due vite C'ho due vite, c'ho due vite, c'ho due vite, c'ho due vite e C'è, quest'uco la vuoi mangiare ton subito L'ho fatto L'ho ucciso L'ho ucciso Non ci posso credere Non ci posso credere, l'ho ucciso C'è, l'ho ri-uciso Ma non l'ho ucciso L'importante è che è morto È morto È morto È morto Ma, b- Ma che si fa? Ma che si fa? Sempre b- B- Non cambia più C'è la fissa b- E anche questa è andata Spero che questa quinta puntata di Cuphead vi sia piaciuta Se è così lasciatela e commentate e condividete Al prossimo Cuphead C'è l'ho ucciso 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 Grazie per la visione!